9 medaglie per Eleonora Calabrese, Maria Chiara Succimarra e Marco Fiaschi, atleti dello special team che all'inizio di aprile hanno partecipato ai mondiali special Olympics di Abu Dhabi. Un successo importante che è stato riconosciuto anche dall'amministrazione comunale che ha consegnato una targa ricordo ai tre atleti. Sono andati a Abu Dhabi, hanno portato il nome della nostra città sui gradini più alti del podio vincendo medaglie. Eleonora, Marco, Chiara sono straordinari atleti che fanno parte di un team che si chiama Special perché è speciale, perché vince spesso, perché ottiene straordinari risultati e che ha un orgoglio cittadino. Ancora emozionati e con negli occhi il ricordo di quando sono saliti sul podio, Eleonora, Maria Chiara e Marco si sono commossi nel ricordare le fatiche e le gioie degli ultimi mesi. Molto forte però è molto artistica anche, è sul podio, è molto forte. Con cerchio, la palla, la fune e il nastro per me ho fatto bene, non lo so. Avevo emozioni e un po' il cuore mi esplodeva. Delfino, otto vasche di rana. Marco ha ottenuto una medaglia di bronzo e Eleonora quattro medaglie d'oro e una d'argento e Maria Chiara una d'argento e una di bronzo. Special team ha tanti altri ragazzi. Tanti altri atleti che fanno altri sport, che fanno il basket, che fanno il bowling, che fanno l'atletica leggera anche. Abbiamo intenzione di cominciare anche con il calcio.